buongiorno a tutti io sono michele e benvenuti su mcarp oggi vi presento questa sedia la fox duralight xl prima vi chiedo però di iscrivervi al canale attivare la campanella ogni venerdì alle 18 c'è un mio video e mi raccomando mettete un bel mi piace ma prima sigla come vi ho accennato prima della sigla oggi parliamo di questa sedia fox duralight xl deriva dalla famosa fox duralight l'xl è un modello più grande schienale più alto per persone o robuste o alte come me e anche i braccioli braccioli che permettono una maggiore comodità leggermente più larga ma mantiene sempre e comunque un peso ridottissimo parliamo di 3 kg e 7 per una sedia di questo genere è un peso record che cosa mantiene quindi abbiamo intanto i piedini fatti in questa maniera grandi regolabile il fermo davanti e anche dietro si monta e smonta in un istante velocissima il materiale è una stoffa quindi e questo è poliestere quindi non vi fa sudare nelle calde torride giornate d'estate ma allo stesso tempo è comoda e quello che è molto più importante è molto più importante che interessa ad un carpista che acquista questo prodotto è sicuramente la leggerezza quindi portarsi dietro un prodotto leggerissimo e che si possa montare e smontare in pochi secondi questo è un prodotto che l'ho cercato ho guardato per diversi giorni sedie di tanti costruttori di tanti produttori ma alla fine ho scelto questa perché mi sembrava a livello non guardando al prezzo ma che comunque l'ho trovata al di sotto di 100 euro il prodotto più leggero comodo e soprattutto lo cercavo perché con uno schienale alto perché se voglio fare una dormita o un riposino posso appoggiare la testa e anche il bracciolo è molto comodo una cosa importante solitamente nelle sedie troviamo sempre imbottiture molto grosse in velluto cosa che in estate è impossibile da utilizzare in Italia detto questo Fox Duralite XL è sicuramente un prodotto che sfrutterò al massimo e già sto sfruttando al massimo ciao ciao